Quali sono i tre aggettivi che meglio descrivono i vini d'Alsazia? Dal mio punto di vista i vini alsaziani sono essenziali sicuramente, poi profondi con una grande complessità, quindi essenziali, profondi e complessi, questi sono i tre aggettivi che credo li caratterizzino meglio. Hai un ricordo del tuo primo incontro con i vini d'Alsazia? Sì, in realtà sono partita da un estremo, Pierre Frick, uno dei nomi più famosi ormai, lui biologico, biodinamico, precursore qui in Alsazia della viticoltura biodinamica e che atta una filosofia in riduzione, diciamo, quindi addirittura c'è una linea senza solfiti. I gusti sono forti, particolari, però sicuramente di grande impatto, anche emotivo, ecco, sono vini che si bevono col cuore. Se tu mi dovessi citare tre luoghi legati ad un vigneto che ami particolarmente? Allora, a me piace molto il Muscat e quindi Manburg è una delle zone dei Grand Cru più legati, credo, a questo vitigno, per cui sicuramente questo è il primo nome che faccio. Sempre collegato a Pierre Frick, Forburg, che è un altro Grand Cru d'eccellenza, conosciutissimo anche questo, e poi un grande classico Schlossberg, il castello che ha sicuramente un suo fascino e una pienezza anche a livello aromatico notevole. Parliamo di Riesling in questo caso, ovviamente. Qual è secondo te la principale distinzione tra i Riesling alsaziani e i Riesling delle altre parti del mondo? Credo che in Alsazia, per conformazione, terroir, caratteristiche pedoclimatiche, si raggiunga una mineralità che ha pochi rivali, anzi, non ha sicuramente pari altrove, per cui la nota minerale, l'acidità e anche una sapidità, è una speziatura anche a volte dolce, a volte invece giocata più su spezie con una sapidità maggiore, per cui comunque la mineralità resta il leitmotiv, credo, di questi vini. E quali sono i vini d'Alsazia che proprio non possono mancare nella tua cantina personale? Io comincerei dall'inizio, qui dai Cremant, perché amo molto le bollicine e credo che in Alsazia ci sia una produzione molto interessante che finalmente sta aumentando in termini di numeri ma anche e soprattutto di apprezzamento da parte del pubblico. In Italia stiamo cominciando a bere Cremant, a capire le sue caratteristiche, quindi le bollicine alsaziane per cominciare poi ovviamente i grandi Riesling, anche datati, ecco, vintage. E qual è stato il tuo ultimo colpo di fulmine con l'Alsazia e i suoi vini? Sono stata a Colmar, sono qui a Colmar e quindi sicuramente millesima al Saz la possibilità di assaggiare così tanti produttori, tutti qui in prima persona che raccontano le loro vigne, le loro storie, che ci fanno assaggiare i vini e poi la particolarità di assaggiare non solo l'ultima annata come avviene solitamente, ma di andare indietro nel tempo fino anche ai primi anni 2000, quindi avere la possibilità di comparare i vini. Credo che questa sia un'esperienza unica perché non è di norma nelle fiere, non avviene questo, quindi nota di merito a millesima al Saz.